Amici! Ma non puoi spaventare subito la gente così! Amici di non Facebook, perché non è Facebook, che cos'è questo? Questo è il Begolino TV, Begolino TV, bella Begolino TV, Begolino TV! Stamattina durante il programma abbiamo lanciato una cosa vintage, cioè mandateci i vostri fax, ecco la strana copia ha ricevuto dei fax bellissimi dagli ascoltatori. Siamo rimasti anche un po' commossi. Sì, molto commossi, soprattutto per alcuni che tra poco vedrete. Ecco scusa, però sei alto, ti posso abbassare un po' la serie? Bassa, no, non va più giù. Ah, non va più alto di io. Ah, sei, 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 perché c'hai questa altezza. 059 64 21 86 per inviare i vostri fax. Per esempio, guarda questo che bello, guarda. Questo hanno fatto i disegni, gli eti della radio. Non mettono troppo che impalli tutto. Ah, devo parlare. Ah, devi parlare. Poi questo arriva da un posto di lavoro dove hanno per un attimo... Basta farlo così, guarda, lo tieni a questa distanza e si vede. Ok, qua invece hanno cazzeggiato sul posto di lavoro e hanno perso del tempo per scriverci. Non diciamo che... No, non farvi vedere. Ah, non farvi vedere la cosa. Poi a Radio Bruno siete sempre nel mio cuore. Guarda che carino. Sì, dei messaggi veramente toccati. Come del resto anche questo, guarda, addirittura... Sì, 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 qua ci saranno a coppia tutte le mattine, ci fate sorridere, vi loviamo. Oh, vi loviamo. Ecco, come potete vedere, ci sono i cuorecini. È tutto faxato. Siete unici, ma soprattutto la parola sotto in latino, socmer, cosa vuol dire, non si sa. Chiederemo a Minganti, perché lui è l'esperto di... Scusa, momento, Begolino TV! Cioè, ma... Cos'è? Allora, intanto Begolino fa così, perché a me sei così ignorante. Fa così. Begolino, 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 Begolino TV. Vai ancora. Radio Bruno, ancora i nostri disegni. Questa è Daniela che scrive e fa le due facce ignoranti. Guarda, sono anche molto verosimili. Sì, molto carino, tra l'altro con le notte musicali. Bello, 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 bello. Poi qua, io disegno così, esattamente come Teresa, gli omini li faccio ancora così, come li facevo in Twitter. No, addirittura io li faccio peggio, perché non riesco neanche a fare le manine e i piedini. Complimenti, ci riconosciamo. Questo qua è Gualdi, con i tre pelli, e questo sono io. Gli riccioli, poi sempre i disegnini, guarda che bello anche questo. Sì, diciamo che è un faxive. Questo è un pochino più... Fra l'altro ci ha messo anche le braghe. Fra l'altro le braghe piene, perché evidentemente abbiamo fatto qualcosa. Due maroni, facciamo. No, abbiamo fatto la grossa. E a proposito, a proposito di Maroni, attenzione perché qui abbiamo Begolino TV, vai. Begolino, Begolino, Begolino TV. Begolino, Begolino, Begolino TV. A proposito di Maroni, ecco qua, arriva la parte un po', diciamo sconcia, perché un nostro sconciatore si ha immaginato come uno scroto, ecco, vedete. Oh, che bello, che bello. Che bella immagine, fra l'altro lo scroto Begolino. Io sono quello destro o quello sinistro, dico, fate voi. E in mezzo c'è sempre Angelo, che è il regista. In mezzo c'è sempre Angelo, che è il regista. E poi chiudiamo in bellezza con questi due ritratti, diciamo il primo sembra... Sì, aspetta, questo sei tu, questo sei tu e questo sono io. Eccole qua, una merda per uno non fa male a nessuno. Ma no, ma c'è, non devo parlare bene. Sono le pupù, quelle che vengono disegnate così si chiamano pupù, ma sono pupù sante, perché lo sai che noi essendo ancora bambini, e le pupù dei bambini sono sante. Sempre sante. Quindi noi vi ringraziamo da Begolino TV, alla prossima per altri fax e altre storie. Begolino cosa fa? Begolino fa così, Begolino, Begolino, Begolina, e poi va a spegnere. Begolino, Begolino.